Il dispositivo che prenderà via nei prossimi giorni è stato siglato a margine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e comporterà un cospico in pico di tutte le componenti di settore. Prevenire incidenti, garantire soccorso agli automobilisti in difficoltà e assicurare in tutta la city e nelle zone turistiche il corretto funzionamento dei servizi di trasporto. Questi alcuni degli interventi messi in campo dagli organi competenti per garantire che tutto vada liscio. Un'attenzione particolare è stata riservata alla circolazione stradale con controlli sulla velocità e sulla guida e stato di ebbrezza, come sottolineato anche dal prefetto di Napoli Andrea Di Martino. Le misure attuate sono il frutto di uno sforzo rilevante del sistema di sicurezza in tutto il suo complesso, ma perché il risultato sia pieno è necessario che anche i cittadini collaborino, prestando ancora più attenzione ai loro comportamenti, a partire dalla condotta di guida prudente e dalla scelta degli orari di partenza e di rientro, evitando le fasce e percorsi più critici. Previsti infine servizi di controllo e di prevenzione generale al molo Beverello, all'aeroporto di Capodichino e nella zona dei decumani.